allora la domanda che ho scelto oggi tra quelle che mi avete lasciato su instagram nelle stories che uso per raccoglierle è hai mai pensato di aver fatto una brutta telecronaca beh sì 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 l'ho pensato in diverse circostanze addirittura ne ricordo una in cui eravamo particolarmente stanchi io e il frank erano ancora i tempi di sky quel giorno avevamo iniziato presto c'era ancora il servizio 24 7 quindi un canale a pagamento supplementare in varie fasce di orario che proponeva contenuti connessi al passato diciamo era l'antesignano del wb network e quel giorno era stato veramente veramente pesante tante telecronache tante cose da fare programmi complicati dove magari si combatteva poco e c'era da fare tanto doppiaggio noi siamo telecronisti non doppiatori un doppiatore ha competenze lessicali differenti dalle nostre è anche un mezzo attore di solito in italia c'è una grande scuola connessa ai doppiatori mentre il telecronista è una persona più viscerale è un professionista che veicola o cerca di veicolare la narrativa il racconto lo storytelling le emozioni è una sorta di decifratore di tramite o di compagno di divano quindi sono ruoli diversi se ti trovi due ore in cui devi solo parlare e recitare delle parti beh è molto più stressante per noi telecronisti rispetto a quanto lo può essere invece per un doppiatore che ha le sue liturgie che sono diverse dalle nostre allora ricordo quella giornata credo che fosse un ro e eravamo veramente stanchi di testa e quando la testa è pesante anche il vocabolario si restringe avete presente l'anziana che porta la candeggina alla sua alla nuora alla socera chi cacchio è comunque la porta alla figlia o alla moglie del del marito dice usa la candeggina no che sennò ti si restringe la maglietta e poi fa strap ecco il cervello in quei casi lì il nostro strap lo ha già fatto soprattutto se arrivi all'ultima telecronaca della giornata dopo già 3 4 5 ore di altri eventi ecco mi ricordo quella telecronaca lì perché il giorno dopo su internet c'era una partecipazione più alta su facebook sui nostri post erano tempi differenti ovviamente c'era erano gli anni del boom no il wrestling te lo strappavano dalla bocca come il pane agli affamati no te lo rubavano e se lo mangiavano loro ecco il giorno dopo mi ricordo su facebook c'erano i complimenti per la nostra telecronaca allora io e il frank in redazione ci guardiamo dove è stata una delle peggiori adesso non mi ricordo ma non credo che ci sia un episodio nella telecronaca no che faccia da capomastro che faccia da capocorsa semplicemente eravamo stanchi quindi c'era poco brio pochi frizzi poca creatività lessicale insomma c'eravamo fatti trascinare dalla corrente presente il nuotatore che non ce la fa più ma sa stare a galla si mette pancia all'aria ad orso dice to dai pensaci te riporta mi arriva ecco più o meno così eppure sul web c'erano i complimenti infatti ci siamo detti vabbè ormai possiamo camminare sulle acque non c'è la corrente ma camminiamo sulle acque perché probabilmente e per fortuna chi ci ascolta ci vuole talmente bene che riesce a non captare che quella telecronaca lì non è la solita ma è stata eseguita in un momento critico per quanto riguarda la nostra voce e la nostra attenzione il nostro coinvolgimento perché sei un essere umano e a un certo punto arriva insomma un istante in cui si rompe si rompe quello che dovrebbe esserci quindi sì sono ben conscio di aver fatto dalle brutte telecronache e ti dirò la verità vi dirò la verità così come già vi ho raccontato non sono mai state indicate da nessuno quelle come brutte telecronache non ho mai letto delle critiche specifiche su quelle brutte telecronache cioè ora non è che riesco a dirvi l'ho fatta una brutta al 2005 una brutta al 2007 una brutta al 2008 però in quegli istanti nei quali andavamo anche con maggior frequenza leggere un po il feedback che arrivava dal web non c'è mai stato un guarda qua ieri quanto è stato brutto c'è sempre stato un generico cazzeggiano però fanno le vocine sceme bla 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 che poi sono tutte cose smontate e rismontate dal sottoscritto e dal frank nel corso del tempo con video spiegazioni con confronti ma non sono mai entrate in testa chi poi queste critiche o queste osservazioni le ha lanciate ancora oggi in tanti con lei però nei uomini e shinsuke e asca e dico sì ma guardate c'è il dispaccio della wb che chiede di italianizzare cioè di localizzare i nomi per far sì che il bambino riesca a pronunciarli e bla bla no fa niente c'è guardate che cazzeggiate tutto il tempo io faccio le statistiche dico no guarda che cazzeggiamo il 4 per cento del tempo quello che è dimostrami il contrario facendo una fascia oraria nessuno l'ha mai fatto però cazzeggiamo tutto il tempo quindi c'è sempre stata su di noi questa idea di critica così generalista mai contestualizzata su una telecronaca mentre quando in realtà ci si poteva dire o ragazzi questa telecronaca era moscia dai non eravate voi era molto sotto tono in quel caso mai mai e io da professionista me ne sono accorto di quelle telecronache ma c'è anche il rovescio della medaglia so che vi sembrerà paradossale ci sono state delle telecronache dove ero convinto di aver fatto un lavoro bellissimo ma più che urlate perché quello è il comparto del frank cioè il comparto del frank è carismatico no quindi tanti si ricordano il rompigli la gamba spezzagli la caviglia i tradimenti di tripolecia battista le urla e il misterio eccetera no quindi il frank ci metteva questo e ce lo mette ancora chiaramente il mio è sempre stato più un intervento chiamiamolo vocabolazionare e di storytelling quindi belle frasi belle iperboli belle consociazioni utilizzo di una bella similitudine e poi la storia cioè raccontare bene la storia far entrare la storia nel cuore nell'anima di chi ascolta ecco io sono convinto in quei tempi lì ma anche in più recenti di aver fatto delle telecronache straordinarie su questi punti di virsta e ai tempi quando andavo a vedere sul web dicono cacchio figata c'è domani eh tutti che diranno cacchio come ne raccontato bene sta roba niente il vuoto più assoluto dicevo ma come mi fanno i complimenti quando la telecronaca per me è modesta o brutta fortunatamente è successo poche volte nella mia autocritica e autoanalisi poi lascio dire a voi e invece quando io sono convintissimo di aver sfornato un capolavoro qualcosa da 10 in realtà non parla nessuno li ammonisco vabbè quindi c'è anche questa questa situazione un po particolare però sì sì delle telecronache brutte sono sono uscite ad esempio io non sono mai stato contentissimo ma i miei colleghi lo sanno delle telecronache a 3 in pay per view le telecronache a 3 in pay per view sulle quali io facevo il regista e davo i tempi a salvatore e a luca quando lavoravamo insieme non mi sono mai piaciute ma non perché ci fosse salvatore ma figuriamoci cioè salvatore è un ottimo telecronista e il solo sa fare ma semplicemente perché le ho spesso trovate meno armoniose nel racconto rispetto alle altre oppure mi sono trovato in situazioni dove i miei compagni proprio perché hai meno tempo per parlare invece di lasciarti in metà della mela come dovrebbe essere magari te ne lasciavano uno spicchiettino molto sottile e tu ti trovavi a dire cavolo avevo in mente una cosa bellissima che si legava a quello che è passato dieci secondi fa ma ora non posso più dirla perché il giro è lungo e in più mi trovo ad aver ricevuto il testimone quando l'argomento di discussione si è praticamente esaurito e io devo dire qualcosa di interlaccio di passeggero quindi le mie telecronache a 3 durante i pay per view non credo che siano brutte però da un punto di vista di soddisfazione personale non sempre io ero contento di quella proposta ma perché soffro molto questa cosa della telecronaca a 3 nel senso che con luca se ho una necessità di entrare vabbè quando eravamo dal vivo facevo dei segni molto comprensibili ci vedevamo lui sapeva che dovevo sparare la mia scemata o una cosa narrativa importantissima subito mi faceva largo in 3 nel momento in cui uno è partito e capisci che il suo discorso è lungo e lì non è che puoi tanto insistere cioè stacce stacce e pazienza però capite almeno interazione quindi mentre alcune telecronache brutte sono uscite spero non escano più escano raramente al giorno d'oggi telecronache di cui non ero non sono stato contentissimo ce ne sono state più di quelle brutte ripeto soprattutto quelle a 3 nel pay per view ma perché è un mio limite probabilmente mentre i miei colleghi mi hanno sempre riconosciuto un'ottima equidistanza nel gestire in stile fantasista i loro ingressi e spesso anche a scapito dei miei perché tendevo magari a parlare di meno ma in realtà ciò nonostante ti dà dei tempi diversi quella telecronaca lì che probabilmente per essendo io lo storyteller si sposano male a quello che a me piace fare cioè se c'è ovviamente il momento cruciale poi in alcuni istanti c'è stato l'undertaker che torna uomo ci sono stati dei bei momenti dove anche in più di una telecronaca anche più persone dell'undertaker che torna uomo eravamo in due ma ci sono stati momenti dove in tre sono comunque riuscito a metterci l'autografo personale del travaso di emozioni del catalizzatore del facilitatore però non sempre quindi sì sì non ho l'arroganza di dire no che telecronache brutte non le ho mai fatte le ho fatte e ho fatto anche telecronache come vi ho svelato di cui non sempre ero contento quando finiva lo show però era quello che si poteva fare a casa sembravano piacere credo che vi siano piaciute quindi o a quel punto fai il team player giochi di squadra e dici ok salirò in cattedra con le mie skill la prossima volta e stavolta lascio più spazio ai miei compagni oppure mi adeguo a quella che è la situazione in cui sono inserito quindi sì 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 voi ricordate qualche telecronaca particolarmente brutta del bardo proprio gne 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 non vi banno è dico la verità lo giuro se ne ricordate qualcuna se volete rinfrescarmi negativamente la memoria vabbè venitemelo a dire qua sotto nei commenti è la fate franca se lo dico la fate franca è purché scriviate il tutto in maniera educata che non è un via libera per venire insultarmi va bene va bene va bene questa è la risposta alla domanda di oggi io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a questo punto a domani sempre alle 17 via sono